La Juventus esce dalla Superlega e stavolta è una notizia ufficiale. Dopo essere stato informato il Barcellona e Real Madrid delle intenzioni lo scorso giugno per una lettera che sarebbe stata recapitata dalle due società votatrici, sarebbe arrivata in serata il comunicato ufficiale da parte del club in questione, che va a dividenziare il cambio di lotta rispetto all'altra gestione, ma dall'altra va ad aprire un tavolo di discorso in attesa della decisione di Neon relativamente all'esclusione della prossima Conference League. Di conseguenza, ufficialmente parlando, la Juventus esce dalla Superlega. Va bene, questo diciamo che sarebbe quanto. Ora vorrei capire da parte dei diposi della Juve che cosa le pensate di questo fatto, di questa situazione, di questa realtà. Vi piace, non vi piace? Io penso che è più. Mia opinione, se lo sincero, non piacerà. Eppure esce di scena dalla Superlega la Juve, la Juventus. Vi ringrazio. Iscrivetevi al canale YouTube, dal rato italiano, commentate, fatemi sapere cosa le pensate e datemi i vostri motivi e le vostre opinioni. Ciao a tutti.